Ciao, sono Eugene Pitch e oggi ti leggerò un estratto dal prologo del mio hyperbook Absorption, i colori del sangue. La follia è come un quadro, il titolo potrebbe essere assorbimento. L'uomo assorbe il dolore come la terra e il sangue e così pure la tela assorbe i colori e le sfumature dell'odio, un circolo senza fine che può completarsi solo con la morte. Il notiziario della sera riportava nuovi aggiornamenti riguardo la recente esplosione avvenuta nel pieno centro di Berlino. L'ordigno usato, contenente un misto di perossido di acetone e altre sostanze chimiche collegate a un timer acquistato su internet, era esploso in un vagone della metropolitana e aveva ucciso otto persone. Non male, ma si potrebbe fare anche di meglio. Le mani sfogliavano le pagine del libro tremando di citazione. Il mondo intero è precipitato nell'incubo. La memoria del terrore non può essere cancellata. Sullo schermo scene di agonia e panico. Bisogna collegare i fili, tutto deve essere collegato. La penna si agitava sulla carta, tracciando gli appunti. Siamo proprio sicuri che ce la faremo? È un piano perfetto, non potremo fallire. Il coltello tagliò uno spicchio di mela e poi fu osservato con fascinazione.